Sta rilassato. Il cane deve imparare che tu non gli dai nessuna tensione, perché questo per lui diventa una tensione. Dici, che c'è qua? Che pericolo c'è? Rilassato. E la mano sinistra mi serve per gratificare il cane. Quando tu torni indietro, gratificalo. Bravo, amore. Prova. Mano destra, rilassata. Mettetela in tasca, stai così. Prova. Ok? In modo che stando così, tu ti abitui, cioè non gli dai nessuna tensione perché non si muove, no? E sta ferma, provaci. Condiziona un attimo. Ok. Vado? Sì, sì. Metto in tasca? Prova con la mano, con la mano. Con la mano così, in tasca. Così? La mano non si muove più di tanto e gli fai conduzione. E la sinistra me la carezzi e lo chiami con la voce. Bravo, piccolo, andiamo. No, stai sbagliando. Vieni con me. Bravo, vai. Chiamo. Con la mano, esatto. Brava. Vedi come si gira? Torna. Quando torna, chiamalo. Vieni. Vabbè, non fa niente. Non fa niente, non ce ne frega niente. Basta che ti segui. Bravo. Chiamo a Ruggero. Ruggero. Brava, così lo voglio, che ti guarda. Chiamo e torna. Ruggero. Adesso chiamo e fermati. Ruggero. Ruggero. Guarda un po'. Ok. Visto? Una conduzione corretta per il cano di rientro. D'accarezzano libero, vai. Giochiamo questo tempo.